Continuare a crescere di giorno in giorno, dopo settimana, quello sicuramente, perché comunque tutto dipende dal tipo, della qualità del lavoro che facciamo durante la settimana. Cosa mi aspetto? Mi auguro di avere più continuità durante l'anno. Noi venivamo da due sconfitte consecutive, una a Reggio Calabria, dove onestamente l'abbiamo buttato noi, uno meritatamente contro Grigento. La squadra dopo ha reagito, è stata brava, siamo stati sul pezzo, abbiamo avuto un buon atteggiamento e credo che dovremmo partire soprattutto da questo. La parola chiave è atteggiamento. Se noi abbiamo un buon atteggiamento durante il lavoro e durante la partita, credo che possiamo dire la nostra. Quindi avere una continuità sotto questo punto di vista e poi cercare di giocare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Di sicuro mi aspetto di fare una buona partita perché tanto giochiamo qui a casa e mi auguro di fare una partita di energia e di aggressività dal primo all'ultimo secondo. Dove dobbiamo cercare di imporre il nostro ritmo, il nostro gioco, cercare di correre il più possibile in contropiede e cercare di limitare Roma su alcuni punti di vista. E' dentro l'aria e su alcuni giocatori che comunque sono giocatori chiavi difficili anche da difendere perché Roma, lasciando stare i due americani, come diceva Kenny, ha uno statura di italiani importanti. dove la parola principale che mi viene in mente è conoscenza, la conoscenza del gioco perché Malaventura e Righetti sono giocatori che hanno giocato ad altissimo livello e quindi sanno quello che fanno e quello che devono consigliare anche i compagni di squadra durante la partita. Orientativamente, ogni volta che guardo Eurobasket mi viene in mente Capodorlando della Lega 2, quando giocavo a Soragna, Basile e Nicevic. Dopo che questi tre sostenevano la squadra, imponevano il loro ritmo e avevano conoscenza, avevano leadership, consigliavano i compagni di squadra e tutti prendevano direttamente una strada.